Ciao Sonia, ciao Mirko, ciao a tutti, oggi entriamo nelle case degli italiani per portarvi un apparecchio che sicuramente sarà stupendo. Esatto, qui ho un piccolo gioiellino dentro questa simpatica valigetta azzurra che come vedete è leggera e molto pratica da maneggiare. Vogliamo cominciare a spiegare la meraviglia che c'è qui dentro? Sì, intanto è una comoda valigetta che voi potete tranquillamente riporre in qualsiasi armadio o scaffale, occupa veramente a pochissimo posto, ma all'interno c'è un apparecchio fantastico che regalerà tanto benessere a voi e a tutti quanti i vostri familiari. Questo apparecchio è un strumento per la magnetoterapia che potrete fare comodamente a casa vostra. Faccio vedere quali sono i suoi componenti. Allora ci sono questi due solenoidi che sono delle piastre molto semplici con un lato dotato di scritta Nuova Rei, l'altro lato invece primo di scritta, va sempre rigorosamente posizionato dal lato dove non compare la scritta. Quindi voi dovete leggere praticamente la scritta. È facilissimo da utilizzare alla portata di tutti, cioè dove c'è anche un manuale che io mostro in questo istante e che comunque arriva al tappo di questo manuale, voi potrete sempre consultarlo. Ma mostriamo, Sonia, come funziona perché veramente abbiamo detto è facilissimo. Basta avere una presa della corrente. Chi non ha una presa della corrente in casa? Direi che dovremmo avere tutti una presa della corrente in casa. Più o meno sì. Allora, mostro il funzionamento, ma vogliamo magari prima dire più o meno a che cosa può servire un apparecchio per la magnetoterapia per chi non lo sapesse? Sì, allora avete subito degli interretti chirurgici, avete degli strappi muscolari, avete, vi alzate, lo so, ti capita mai il malore del giorno? Poi dopo i 30, no, puntualmente ogni giorno c'è un acciacco, quindi hai malo da spalle, malo da gamba. Diciamolo con calma, poco poco dopo i 30. Poco poco dopo i 30. No, allora, per qualsiasi vostro disturbo, qualsiasi strappo muscolare, qualsiasi, non so, magari ci sono amici che fanno sport, che hanno un'intensa attività fisica. Oppure quella piccola fratturina che quando cambia il tempo comincia a farsi sentire. Assolutamente sì. Questo può aiutare. Allora, abbiamo detto che abbiamo queste due piastre, i solenoidi, vedo che hai studiato. Sì, esatto. Allora. No, mi piace poi tra l'altro come solenoidi, no? Sole, solenoidi. Sono piastre che si chiamano solenoidi. Esatto. Allora, noi abbiamo attaccato il nostro apparecchio alla spina della corrente. Qui abbiamo questi due jack che attaccano. Sono due cavetti, traduciamo anche in italiano. Sono due cavetti, basta semplicemente inserirli. Uno, uno, due, non c'è un ordine specifico. Come vanno, vanno indistintamente. Posso mettere a destra o a sinistra? Come mi viene? Quindi è estremamente semplice. Inserite la presa nella corrente. Esatto. E il gioco è fatto. Quasi. L'ultima altra cosa che devo fare è spiegere on. È più semplice quasi che ne usare un tostapane. Cioè veramente, è di una semplicità estrema. Sì, direi che anche mia mamma che per esempio ha una grande difficoltà col cellulare, una cosa così riuscire ad utilizzarla tranquillamente. Sì, non ci sono menù, non ci sono cose complesse, non ci sono storie complicate. Esatto. E noi dopo pochi minuti sentiremo che le due placche cominciano a diventare leggermente tiepide, si scaldano, ma questo non è assolutamente un problema. È un normale effetto delle bobine che ci sono all'interno. Sì, tu hai parlato giustamente di questi due minuti, però specifichiamo che già nel momento in cui vengono applicate comincia l'effetto. L'effetto esattamente appena si accende. Qui poi ci sono queste due manopole per la regolazione. È un apparecchio a bassa frequenza e tendenzialmente comunque viene consigliato di cominciare l'utilizzo su delle frequenze medio-basse, quindi più o meno per far vedere a questo livello o poco più. Quindi manopola tutta a sinistra. Esatto. A questo livello o poco più. Comunque non è normalmente sufficiente un meglio livello, ecco, diciamo. E potete farlo anche semplicemente mezz'ora, un'ora, a casa vostra, nella comodità del vostro divano, senza interrompere quello che è il tram tram della vostra vita. E mettiamo il costo, perché non è assolutamente un costo di basso rilievo, quello che tante volte vi chiedono i centri per fare delle sedute. Spesso, a chi non capita la fratturina, la distorsione muscolare e magari tante volte, allora, abbiamo due soluzioni. O rinunciamo a, o ci teniamo la fratturina e quindi tutto il malessere, oppure, molto più semplicemente, siamo costretti a ricorrere a questi centri che ci chiedono veramente tantissimi soldi per fare delle sedute che poi ci permettono di avere questi benefici. Esattamente. In particolar modo, se posso permettermi, se ci sono delle persone che devono fare delle terapie molto lunghe, anche magari di mesi, è assolutamente più conveniente poter avere un apparecchio del genere che non ha niente di meno di un apparecchio professionale che potrete trovare in un ambulatorio e comodamente sul vostro divano, davanti alla tv o mentre siete al computer, potete utilizzarlo. Non ci sono contraindicazioni per quanto riguarda anche la durata delle applicazioni. Assolutamente sì. Che tanto male non fa. Ma volete mettere che risparmio di tempo e soprattutto che risparmio di denaro? Perché adesso magari noi possiamo avere bisogno di fare dieci applicazioni, magari dieci giornate con questo apparecchio. Poi noi lo riponiamo comodamente nella sua valigetta che occupa pochissimo spazio. Tutti nella casa troviamo un piccolissimo spazio in un ripostiglio, in uno scaffale per questo apparecchio e poi domani che servirà nuovamente a noi o ai nostri cari ce l'abbiamo comodamente a portata di mano. Con un risparmio assolutamente notevole di tempo e di denaro. Io questo sogno ci tengo a sottolinearlo perché vuoi mettere, che so, hai l'appuntamento nell'ambulatorio, devi chiedere un permesso al lavoro, magari non riesci ad accompagnare, che so, la recita a tuo figlio. Invece non vai ad interrompere quello che è il normale tran tran della vita quotidiana. Tu comodamente a casa, magari la sera, mentre ti guardi la televisione o mentre comunque assisti tuo figlio, mentre fai i compiti, riesci comunque tranquillamente a farti la magnetoterapia, quindi ad apportare un profondo benessere a te. Ma la comodità infatti è tantissima, anche perché dobbiamo pensare che ci sono persone che hanno delle difficoltà deambulatorie ed è anche difficile poterle far uscire di casa e organizzare una seduta di questo genere. Per cui il fatto di poterlo avere in casa comodamente, senza dover avere il problema che è freddo, piove, c'è difficoltà di fare o tutte le avversità meteorologiche. Esatto, purtroppo abbiamo tutti delle vite con i tempi molto tirati e questo assolutamente ci può aiutare. Rimettiamo l'occhio su questo bellissimo apparecchio. Noi abbiamo le nostre due sole nodi che dobbiamo applicare nella parte non stampata. Posso usarti un attimo come cavia? Assolutamente sì, sarò la tua cavia. Bene, presentami il polso, benissimo. Io quindi li devo posizionare in questo modo. In questo momento notate che io sono vestito, quindi si può fare tranquillamente l'applicazione anche da vestiti, quindi non è necessario spogliarsi o altro. Anche proprio attraverso il tessuto, eventualmente, se uno preferisce, dovesse essere il prezzo per esempio. Un'altra cosa che noi abbiamo in dotazione è questa fascia elastica, per cui se magari io devo applicare, io adesso te lo metterò sul polso per comodità, ma magari su un ginocchio o sulla schiena, io posso utilizzare questa benda. Questa fascia che comunque è data in dotazione, che troverete all'interno della comoda valigetta. E io posso comunque tenere i strumenti nella posizione giusta. Questo è un esempio, io posso applicarlo poi anche sulla schiena, in tutte le zone del corpo dove non mi accomodo tenere fermo un po' di due mani, insomma. È una grandissima comodità e anche questa fascetta è inclusa naturalmente nella comoda valigetta. Volevo ricordarvi che questo apparecchio è assolutamente made in Italy, è italiano, non è un prodotto di importazione e soprattutto c'è un'azienda che risponde a tutte quante le vostre chiamate in caso di problemi. Non dovrebbero essercene perché è facilissimo l'utilizzo, vi arriva a casa tutto completo così come ve l'abbiamo mostrato, però molto importante, io volevo sottolineare che intanto è un prodotto italiano, uno strano e soprattutto è un prodotto che non c'è il numero di telefono dietro il quale ci si nasconde, hai capito? Se voi avete dei problemi, ci fosse un pezzo mancante, non ce ne saranno però, ci fosse un pezzo mancante, volete ulteriori spiegazioni, non vi è chiaro qualcosa che è scritto sul manuale, difficile perché comunque è scritto in modo semplicissimo, però qualsiasi vostra segnalazione c'è un numero di telefono, voi parlate direttamente con gli operatori che sono estremamente qualificati, preparati, seri e di una gentilezza unica e sapranno rispondere sempre a qualsiasi vostra domanda, quindi cosa aspettate amici? Oggi veramente voi che in questo momento forse non casualmente avete l'opportunità di seguirci in questo istante davanti alla tv, avete l'opportunità di farvi un grande regalo, un grande regalo per voi, un grande regalo per la vostra famiglia che sicuramente sarà in grado di darvi tanto benessere oggi, ma anche un domani, perché vuoi mettere ad avere un amico così alleato e prezioso al tuo fianco oggi e poi anche, che so, magari fra un anno o due, cioè magari voi adesso fate un ciclo di dieci terapie, state bene, lo posizionate nell'armadietto e poi magari tra un anno potrebbe servire a vostro marito, a vostra moglie, a vostro figlio. Assolutamente sì, noi possiamo ricorrelo nella nostra bella veligetta, portarlo anche a casa di qualcun altro, se ce n'è necessità, prestarlo alla vicina di casa, dai! Prestarlo! E comunque non ha scadenza, per cui possiamo utilizzarlo e dal momento in cui abbiamo fatto questo meraviglioso acquisto, noi possiamo avere, diciamo, abbiamo investito su qualcosa che è per la nostra salute e per il nostro benessere. Sai Sonia, ti devo confessare che la mia migliore amica mi ha confidato, alcuni giorni fa, che ha speso circa 1000 euro per alcuni cicli di magnetoterapia e non è assolutamente poco, anche quando io le ho parlato di questo prodotto, lei mi ha detto, potevi dirmelo prima? Ma al presente ho visto gli occhi sgranati, no? Si, sarebbe anche arrabbiata, come le hai parlato prima del magneto. E io a sua volta le ho detto, beh, potevi dirmi prima che andavi direttamente nel C, ti bloccavo io e ti proponevo questo apparecchio. In effetti con un prezzo veramente esiguo, noi abbiamo possibilità di fare anni di terapia, non dei cicli, assolutamente. No, è un apparecchio tra l'altro che può servire per portare vita, può servirci tra un anno, può servirci tra due anni, può servirci intensamente oggi, poi magari lo parcheggiamo nel nostro scaffale per 10, 15, 20 giorni, un anno, il tempo in cui stiamo bene e poi nostro marito, nostro figlio, nostra moglie, uno strappo, un qualsiasi problemuccio. Assolutamente sì, perché tanto non ha data di scadenza, per cui dal momento che mi abbiamo fatto questa piccola spesa, abbiamo veramente fatto qualcosa di positivo per la nostra salute e dei nostri cari. Per noi e per i nostri cari. Quindi cari amici, per epilogare, voi oggi avete avuto una fortuna immensa, quello di seguire il nostro appuntamento, un appuntamento assolutamente unico con la salute. Portiamo a casa vostra questo straordinario apparecchio che si chiama Magnetiche, quindi Sonia andiamo a epilogare nuovamente per gli amici all'ascolto, in che cosa consiste Magnetiche? Possiamo trattare comodamente a casa nostra problemi come dolori muscolari, artrosi, pseudoartrosi, anche delle fratture recenti che si fanno fatica a rinsaldarsi e tanti piccoli problemi che purtroppo, soprattutto con la cattiva stagione, possono cominciare a presentarsi. Un apparecchio assolutamente semplice da usare, alla portata di tutti, soprattutto fornito di un comodo manuale dove all'interno trovate tutte le istruzioni per l'uso, assolutamente semplice, semplicissimo il manuale da consultare, semplicissimo l'apparecchio da utilizzare, quindi cosa aspettate? Chiamate con fiducia e avrete da subito i benefici che meritate, perché con Magnetiche il benessere è per tutti e soprattutto a casa vostra. Ciao da Sonia e ciao da Mirko. Magnetic è l'apparecchio per la magnetoterapia, comodamente a casa vostra, per alleviare tanti problemi fisici con risparmio di tempo e denaro. Per ulteriori informazioni chiamate il numero 348 69 61 643, oppure visitate il sito www.nuovarei.it. Magnetic è un prodotto nazionale. Magnetic, il benessere a casa vostra.